La rinunica della Sala del Consiglio, questa mattina, la presenza del Consulio del Fato, Stalin, Italia, Mohamed Eliazul Ak, ha affrontato i problemi legati alla convivenza civile, all'integrazione, alla democrazia, anche dopo l'unicidio del cittadino pachistano, avvenuto a Luzara il 3 agosto scorso. Al termine della mattinata, la consulta ha sottoscritto un documento di condanna di ogni limitazione della libertà personale. L'integrazione si raggiunge, si è detto, prima di tutto garantendo i diritti inviolabili della persona. I valori fondamentali di sacralità della vita, libertà e democrazia, scritti nella Costituzione italiana, devono costituire, ha scritto la consulta, la base concreta della convivenza civile della nostra comunità, sia da parte dei reggiani che dei nuovi reggiani.